Lavorando in squadra, possono ambire a prede più grandi. È una brutta notizia per i bufali. Questi bovini pesano quasi una tonnellata. Ma non sono prede facili. Hanno delle corna letali. E sanno come difendersi dagli avversari. Ma i due leoni non possono resistere alla tentazione di un pasto così succulento. Devono arrivare molto vicini alla preda, almeno a 30 metri. I leoni sono famosi per i loro rapidi scatti. Non percorrono lunghe distanze. La mamma e il suo cucciolo devono riunirsi subito alla mandria. Ma è troppo tardi. Artigli affilati come rasoi trafiggono la carne. Ogni unghia è lunga 38 mm. Per ucciderla, devono farla cadere. Un leone serra le fauci intorno alla sua gola. L'altro le salta sulla schiena. Farendole i posteriori con gli artigli affilati. La sua morte segna il destino del cucciolo. È il prossimo.